Temperature pribaverili, nessuna precipitazione, anche quest'anno è Natale ma sembra Pasqua. Per tornare all'ultimo 25 dicembre bianco bisogna risalire al 2008. La neve a Natale? Solo quella artificiale dei presepi o quella sparata sulle piste di sci. Per il resto la festa invernale per eccellenza assomiglia sempre più alla Pasqua anche dal punto di vista delle temperature, come conferma il nostro esperto di meteorologia Marco Rabito. Caldo sarà soprattutto in quota, quindi in montagna, sull'Altopinano di Asiago avremo tra il Natale e Santo Stefano temperature nettamente di sopra delle medie stagionali che non richiameranno assolutamente le festività natalizie ma più che altro quelle pasquali. Già ieri si sono registrati dati assolutamente fuori della norma, 20 gradi a Trieste, 17-18 sull'alta pianura da Tiene e a Schio esattamente come un anno fa. Parliamo di temperature diurne anche superiori ai 10 gradi che potranno andare anche verso i 15. Tra l'altro già la giornata di ieri è stato un anticipo perché sull'alta pianura abbiamo registrato valori superiori ai 17 gradi, quindi molto alti per il periodo. Purtroppo il bello stabile con tutte le conseguenze per la siccità e l'inquinamento da polveri sottili pare dover durare ancora parecchio con il possibile ritorno delle nebbie. Dominerà ancora l'alta pressione, alta pressione che ci accompagna ormai da un mese a questa parte e ci accompagnerà per altri giorni ancora, molto simile a come è andato il dicembre scorso.